Ritorniamo nel Parco Nazionale del Pollino a pochi giorni dall'evento di Sapori Italiani, la fiera di promozione territoriale dell'alimentare delle regioni italiane, tra cui saranno presenti il Parco Nazionale del Pollino e il Comune di Pisticci, rappresentato dall'assessore all'autoraturismo e alla cultura. Ma andiamo a focalizzare in questo splendido polmone verde con il Vice Presidente Franco Fiore. Bentornato ai nostri telecamere. Fiore, abbiamo portato avanti una serie di iniziative, ora possiamo iniziare a tirare, come abbiamo fatto con altri amministratori, un primo bilancio. L'abbiamo fatto a Matera per Naturarte, ma ci sono delle grosse novità. Oltre alla partecipazione del Parco Nazionale del Pollino alla fiera Sapori Italiani di Longalone dal 12 al 14 ottobre, c'è anche un importante evento di equiturismo. Sì, è un insieme di iniziative che da tempo si portano avanti, anche in relazione ad alcuni cali delle presenze turistiche che si erano osservate. Noi ci stiamo muovendo dal mese di marzo in avanti e abbiamo avuto un recupero di presenze. Ha fatto cenno a Naturarte, che è stato senz'altro un progetto significativo, però abbiamo avviato anche un insieme di eventi correlati al Piot Natura Cultura, in coordinamento tra Parco del Pollino, APT, Comune di San Severino Lucano, che hanno visto lo svolgersi di momenti riguardanti l'agroalimentare nelle varie comunità del Pollino Lucano, concentrando e incentrando l'attenzione sulle tipicità agroalimentari di queste aree. E' sempre nell'ambito di questo programma Piot, è previsto per l'11, 12 e il 13 di ottobre un raduno di appassionati di equiturismo. Sul piano di Ruggio avremo questi cavalieri, poi delle manifestazioni che si svolgeranno nel Comune di San Severino, di Vigianello e di Rotonda. Per esempio saranno presenti arcieri a cavallo nella giornata del sabato, quindi un momento significativo anche quello. Così come dal 29 di settembre al 4 di ottobre è organizzato in San Severino Lucano, tramite anche il servizio del 118 Emergenza Urgenza e Soccorso Alpino, un raduno di iscritti al Soccorso Alpino che provengono da tutte le regioni d'Italia, dalla Valle d'Aosta, dal Trentino, dalla Toscana. Questi iscritti al Soccorso Alpino praticheranno esercitazioni sulle pareti del Rocciose e del Pollino stesso, esercitazioni anche tramite elicottero, in elicottero e quindi anche questo sarà un momento significativo e di promozione del territorio del Pollino stesso. L'Ongarone è una delle tappe che noi andremo a frequentare dopo aver organizzato con itinerari agroalimentari e anche altri momenti di promozione del territorio del Pollino in più parti d'Italia e sono convinto che anche questo evento, questa manifestazione avrà lo stesso successo che abbiamo riscontrato nelle manifestazioni precedenti. In conclusione, Fiore, un appello e uno slogan, soprattutto per l'autunno e inverno, nel Parco Nazionale del Pollino. Qual è il slogan del Vicepresidente? Non demordere, è sempre essenziale il discorso di collaborazione fra le varie istituzioni, è necessario che anche comunque le istituzioni cooperino con gli operatori turistici del territorio e insieme bisogna individuare programmi, progetti giusti di sviluppo e programmi e progetti giusti di comunicazione e di promozione. Grazie.